Buongiorno, ben ritrovati, puntata di Linea Diretta qui su Rete Veneta, abbiamo un ospite speciale, Filippo Gastaldi di Euro Veneta in fortunistica stradale, avete già capito, a grandi linee anche dal titolo che vedete in sovrimpressione di cosa parleremo durante questa puntata, parleremo di incidenti stradali dovuti, adesso vi spiegheremo anche il perché alla disattenzione soprattutto e poi parleremo di mala sanità perché i casi sono in aumento e non sempre le persone riescono a capire e a distinguere quando poter fare ricorso, quando far valere le proprie ragioni e quando invece non è il caso di procedere perché ci sono determinati interventi che hanno un grado di rischio molto elevato. Iniziamo subito partendo da quello che ho detto poco fa Gastaldi sulla disattenzione al volante perché negli ultimi anni questi maledetti da un certo punto di vista smartphone hanno condizionato la vita anche di chi guida e si mette in macchina. Sì, allora buongiorno, intanto grazie di avermi invitato. Sì, allora in questi due ultimi due giorni abbiamo visto nei giornali e telegiornali si parla di questi incidenti stradali dovuti alla distrazione perché siamo sempre collegati col mondo. Allora la distrazione è il fattore principale dell'incidente stradale, è vero, siamo collegati col mondo quindi non va bene guidare e guardare lo smartphone, questo è sbagliatissimo perché bisogna usare tutte e due le mani e stare attenti alla circolazione stradale. È vero che anche quando tu metti gli auricolari automaticamente prestando l'attenzione a quello che dici, a quello che parli ti distrai e quindi puoi creare danni a terzi. Le ultime due statistiche che ti sono state fatte ti dicono che sono aumentati di un 2-3% i sinistri stradali relativamente ai dati ufficiali che sono quelli del 2015. Allora è vero che sono aumentati del 2-3% i sinistri gravi o cosiddetti mortali, ma sono diminuiti di un 50% i sinistri di media e lieve entità perché bisogna stare bene attento quando vengono mandate queste informazioni che abbiamo una lobby assicurativa che è molto forte. Quindi ti fanno una pressione dicendoti attenzione che sono aumentati i sinistri, sì, sono aumentati i sinistri gravi, quindi i sinistri mortali, ma sono diminuiti del 50% i sinistri, i cosiddetti tamponamenti o i danni perché i sinistri vengono quando loro le statistiche le fanno con le constatazioni amichevole vengono messe dentro dei loro computer. Oggi negli ultimi 10 anni abbiamo più cultura, quindi abbiamo cominciato ad avere una base con la patente a punti, il no alcol, la guida, le attenzioni, quindi diminuiscono i sinistri stradali e poi bisogna anche vedere il numero di auto che sono in circolazione, abbiamo sempre più bisogno dell'auto perché servizi pubblici non ce ne sono, perché è la verità, quindi i sinistri sono diminuiti. Incidenti sinistri diminuiti, il numero di auto in circolazione aumentate, diciamo di un certo tipo aumentato e aumentano anche i numeri di determinati personaggi che girano senza l'assicurazione, questo rappresenta un rischio molto molto importante per chi invece è in regola con la revisione e con l'assicurazione e via dicendo. Purtroppo sì, allora il numero di sinistri stradali con persone coinvolte nell'incidente stradale che non sono assicurate è aumentato, è aumentato in modo esponenziale negli ultimi anni dovuta alla crisi, dovuta a persone che non si assicurano e che questa è una pazzia secondo me, è una cosa folle. Allora ritengo che siano giusti i vari telecamere adesso che ammettono nelle città, che vedono se la targa è assicurata o non assicurata, è il mezzo. Mi collego all'incidente stradale con veicoli non assicurati, è importante identificare il mezzo, cioè il mezzo che venga identificato o da autorità o da più testimoni e poi recarsi subito a fare una denuncia a querela con i testimoni per raccontare bene come è successo il fatto o se chiamiamo le autorità la cosa migliore perché poi abbiamo un fondo vittime della strada a cui possiamo rivolgerci, soprattutto per le lesioni, se abbiamo solo i danni materiali e il veicolo sempre non assicurato, mai identificato, quindi sappiamo che quello è Francesco Rossi o Giovanni che ha la guida di quel mezzo, non assicurato, riusciamo ad avere il giusto risarcimento rivolgendoci al fondo vittime della strada, che c'è un fondo che è una piccola percentuale che noi paghiamo nella nostra assicurazione tutti per poter tutelare quelle persone che vengono danneggiate per un danno o materiale o fisico da persone non assicurate. Ecco, aumentano i casi di personaggi e di persone che guidano senza assicurazione e cosa fare? Identificare il veicolo, se non si ha la prontezza di identificare il veicolo è un grosso problema. Diventa un problema, oppure ci vogliono i testi, ci vogliono testimoni che noi dobbiamo subito portare dalle autorità e cercare che faccia la testimonianza di fronte a un pubblico ufficiale e cercare di spiegare bene la dinamica e i fatti, perché sai, io potrei inventarmi che sono uscito di strada solo per colpa di un terzo, bisogna provare, ci vuole una prova provata, quindi testimoni e autorità, che poi questi testimoni verranno sentiti in giudizio perché il fondo vedete nella strada e dice altrimenti tu mi stai truffando, quindi ci vuole una prova certa. Parlava prima di telecamere, circuiti di videosorveglianza, ormai le nostre città sono pieni di questi sistemi, insomma anche all'avanguardia, non sempre però il cittadino come dire, è portato a richiedere e farsi avanti da questo punto di vista perché magari lo ritiene complicato, invece bisogna andare anche a chiedere all'autorità di verificare le immagini, i video che ci sono. Assolutamente sì, perché ormai siamo monitorati ovunque, dappertutto, io lo ritengo un po' una cosa che va contro la mia privacy, però se serve per il bene collettivo va bene la telecamera che controlli se quella targa è assicurata o non assicurata, non trovo giusto tutte queste telecamere per le velocità perché quando superi di 5 km all'ora in automatico ti arriva il verbale della multa, io quello lo trovo contrario però va bene così. adesso per un discorso di privacy, due giorni prima della chiusura delle camere in agosto è stato presentato un decreto legge da parte di un parlamentare del PD e un altro, non me lo ricordo, per rendere obbligatoria la scatola nera, un'altra nefandezza perché io sono che se la scatola nera la voglio, bene la voglio io, ma non me la rendi obbligatoria per legge perché loro te la fanno passare per sconto, questo 10% di sconto che già tu se vai a discutere il 10% ce l'hai già d'ufficio e la scatola nera la vogliono rendere che è una prova in giudizio, quindi tutto ciò che dice la scatola nera è vero ed è già stato provato perché abbiamo fatto corsi con ingegneri cinematici, prove che la scatola nera non dà il punto esatto e poi io dico la scatola nera nel pedone e nella bicicletta, cioè io che sono in auto ho la scatola nera e quando investo il pedone o la bicicletta cosa gli mettiamo una scatola nera anche a loro, quindi se in giudizio la scatola nera diventa una prova rilevante, io che sono un pedone che non ho la scatola nera che difesa ho, quindi non trovo poi anche per un problema di privacy perché con la scatola nera tu sai in ogni luogo, in ogni dove, in ogni momento. Diventa uno strumento insomma a doppio, che può avere una doppia valenza perché in fase di giudizio effettivamente se abbiamo solo una parte. Esatto, la scatola nera vista come momento di impatto, cioè la scatola nera rileva che c'è stato l'incidente, allora non è la truffa e mi va benissimo, non c'è stata la truffa perché c'è stato l'urto, arrivano le autorità, ti può dare un servizio perché se c'è un problema fisico arriva qualcuno e ti aiuta, perché adesso la scatola nera vai nella centrale, la centrale ti chiama, non ho bisogno, ma la scatola nera che identifichi e dica ecco l'incidente è successo al chilometro 18, al metro 24, cioè che dopo in giudizio quello è una prova provata, no, quello no, sono contrario perché dobbiamo pensare anche ai pedoni, ai trasportati e alle biciclette. Un'altra curiosità, visto che è una moda che sta prendendo piede in Italia, la si usa all'estero soprattutto, quella di mettere le telecamerine che riprendono H24 all'interno naturalmente della macchina, posizionata dentro e riprende H24 quello che succede intorno al veicolo, quella può essere utilizzata poi in fase di identificazione in veicolo? Certo, può essere provata in prova, può essere portata dopo che venga resa valida, c'è il problema sempre di cercare di identificare che quella è un filmato che tu hai fatto in quel momento, in quel luogo, a quell'ora, il problema è provare che il fatto, la cosa migliore sempre negli incidenti stradali, se sono soprattutto incidenti stradali di una certa entità, le autorità, le autorità arrivano adesso poi con la legge dell'omicidio stradale, quindi se ci sono lesioni di una certa entità viene chiusa la zona di dove è avvenuto il fatto e polizia stradale e carabinieri sono capaci e competenti di fare esattamente i punti, i segni dove è successo il fatto, come è avvenuto, perché poi quello servirà in un secondo momento per eventuali periti o in causa, in giudizio, per determinare esattamente le dinamiche. Mi collego all'omicidio stradale perché lo ritengo anche lì una legge fatta, secondo me, un po' troppo in fretta, perché i sistemi per mettere in prigione chi faceva questi omicidi stradali con stati di alcol fuori misura e vediamo l'ultimo caso, di due giorni fa il camionista, quello da prendere, da mettere in prigione tutta la vita, la togliera per strapparla, oppure di gente che guida in stato psicofisico, quindi sostanze stupefacenti, quello l'omicidio stradale mi sta bene, però domani mattina noi tutti qui usiamo l'auto, siamo tutti obbligati a usare l'auto, una piccola lesione che supera i 40 giorni, che è un attimo per distrazione, rischiamo tutti la patente da 2 a 5 anni, perché in automatico adesso parte Dufficio e Dufficio ti arriva a casa da parte del tribunale, guardi che lei ha commesso questo tipo di reato, ti devi difendere, quindi non c'è più la parte civile dell'assicurazione, che sei assicurato perché si crea un danno, c'è anche la parte penale, quindi hai bisogno di prenderti un affogato, di difenderti, di spendere. E diceva la lesione di quanto... Allora in 40 giorni, che poi anche lì... In 40 giorni cosa possono essere? Bravo, anche un colpo di frusta può essere 40 giorni, perché alcuni dicono la somma dei giorni, perché anche qui adesso la legge è stata fatta sicuramente da qualcuno che non aveva, magari neanche la patente, perché come in tutte le cose, anche quella della scatola nera, vorrei vedere chi la sta facendo, ci vuole una base, ci vogliono degli esperti, ci vogliono delle persone, prima bisogna pensarla bene come fare. Se io ho una lesione, si dice che tu non hai più l'uso fisico di un arto, di una parte, beh anche la distorsione dell'archia del cervicale, se io non lo uso più bene come prima, può essere una lesione grave per me e quindi mi può essere data a livello di codice di procedura penale, posso essere condannato a tot mesi e alla sospensione della patente. Minimo due anni, massimo cinque anni, due anni è una... Allora poi dipende se sono in stato di ebrezza, se sono la velocità, che tipo di infrazione, se ho fatto una manovra, sono varie... Il classico tamponamento che però provoca un... Beh insomma il tamponamento e collisione può essere anche di no, però adesso la legge è nata a marzo, bisogna capire un po' poi perché... Con la dinamica dei dati... Bravo perché ci sono procure di Udine, quella di Padova, bisognerà uniformarsi, ci vorranno un paio d'anni per capire bene. Certo che le medie lesioni che possono essere causate tutti i giorni, perché usiamo la macchina e la distrazione, abbiamo visto che questi smartphone creano la distrazione e quindi creano questi incidenti, restare senza patente due anni, la vedo una cosa... Sì, è un disastro. Un disastro sì per chi lavora, con la macchina magari. E con le assicurazioni come è il rapporto? Perché molte volte, abbiamo letto anche insomma dei casi, naturalmente fanno lobby e hanno un peso molto importante, però insomma alle volte diventa difficile anche farsi pagare per dei diritti che si hanno ai confronti dell'assicurazione. Io parlo, faccio infortunistica stadale, faccio parte del sistema, vado contro queste lobby, queste contro compagnie di assicurazione, io sono piccolino, queste compagnie sono sempre più grosse, i gruppi una volta erano tanti, adesso alla fine sono cinque gruppi, quindi sai si siedono in un tavolo, decidono a livello governativo, se tu guardi appunto la legge della scatola nera è stata fatta due giorni prima di andare in vacanza, passata come decreto legge, non si sa né come né perché, te la vogliono far passare come scatola nera che ti serve per un motivo, cioè per lo sconto, ma allora doveva essere fatta come scatola nera che doveva calmierare il prezzo a livello italiano, ma già adesso dicono eh no, al Sud non si può fare questo perché al Sud ci sono più incidenti, quindi non vale più che il prezzo diventa uniforme perché tu sai che qui nel Veneto paghiamo un prezzo, se vai in Campania il 18enne paga cinque volte di più, allora mi stava bene che la scatola nera mi dava un prezzo uniforme, quindi le compagnie di assicurazione sono forti, sono grosse, c'è sempre più bisogno di qualcuno, se io non facessi questo mestiere, dovessi avere un incidente, non saprei come fare perché veramente anni fa nel 2006 è stata fatta la legge dell'indenizzo diretto, per rendere più veloce invece non è niente vero, cioè la verità è che hai sempre più bisogno di qualcuno che ti aiuti, sia nelle licenze stadali, sia nelle responsabilità mediche, sia negli infortuni sul lavoro, non ne vieni fuori, da solo fai fatica. Parlando appunto, passando dagli incidenti che possono capitare in reparto, aumentano i casi anche in questo campo, le faccio questa domanda e poi soprattutto se i cittadini riescono poi nelle statistiche, nelle medie ad ottenere rimborsi o far valere le proprie ragioni? Negli ultimi anni abbiamo un aumento di gente che viene a chiedere consiglio per la responsabilità medica, la cosiddetta responsabilità medica o mala sanità, diciamo che tutti vorrebbero avere un risarcimento, non è vero che ci sono così tante responsabilità mediche perché in ogni operazione, in ogni caso c'è una percentuale di rischio, c'è poco da fare se no i medici non potrebbero più lavorare e questo è sicuro, poi ci sono casi conclamati dove la responsabilità è chiarissima. Il difficile è che intanto da sapere che noi abbiamo 10 anni di tempo dalla data dell'evento, da quando è successo il fatto per poter chiedere un risarcimento e poi io dico sempre venite, chiedete, valutiamo, ci sono medici legali a cui noi ci affidiamo perché noi non siamo in grado di valutare se il danno, che sono capaci e competenti, se poi c'è un danno si comincia a discutere perché la paura principale è quanto mi costerà, cosa succederà perché questo è il fatto, venite, chiedete, si guarda, non pensiamo che tutti i danni, noi possiamo chiedere il risarcimento perché non è così. Non è così anche perché insomma come dice lei ci sono degli interventi che hanno un grado di rischio molto elevato e in questo caso però come decidere se rivolgervi, rivolgersi a voi oppure no, nel senso che si tratta solo di interventi chirurgici, si tratta di operazioni fatte, qual è il caso, qual è il momento in cui deve scattare la scintilla del dire magari vado a chiedere un consiglio, immagino che sia abbastanza vasti e diversi. I casi sono vasti perché dall'operazione del femore che ti viene fatta l'operazione e quindi ti viene schiacciato il nervo e quindi non riesci più a avere l'uso poi della gamba, i casi di persone che sono morte per vari motivi, i casi sono vari, venire a chiedere non è un problema, ma dico che in un'ora o in due ore c'è una consulenza veloce, si capisce già, se poi bisogna studiare il caso col medico legale e capire, quindi chiedere, certo che se mi vieni a chiedere per un taglietto dei tre punti ti dico già lascia stare, ci vuole un danno permanente, ci deve essere un danno. Avete una bella responsabilità anche voi comunque in questo settore perché se dovessero, ed è forse uno dei punti dolenti dell'intera faccenda perché la categoria medica si è lamentata dicendo troppe cause, troppo ricorsi eccetera eccetera, quindi per non far esplodere o implodere il sistema, perché non è che se dovessero pagare qualsiasi tipo di ricorso diventerebbe impossibile per le casse delle aziende ospedaliere, ma dello Stato poi, c'è necessario un livello di responsabilità anche da parte vostra nel dire, guardi, non è il caso? Assolutamente sì, perché i casi, certe volte io ho visto colleghi o altre persone che hanno fatto cause di responsabilità dove è convenuto più al patrocinatore che non alla persona che ha subito il danno, quindi bisogna valutare bene perché la percentuale di responsabilità o di errore c'è, ci deve essere e c'è ed è giusto che ci sia, che ci sono casi in cui non tutte le operazioni sono perfette e vengono bene e non si può chiedere risarcimento a tutti o ovunque, dopo io personalmente lavoro con bravissimi medici legali che sono in grado di dirmi se c'è la responsabilità e se è il caso di fare un ricorso nei confronti delle aziende ospedaliere. E per quanto riguarda invece gli infortuni sul lavoro, ci sono anche le parecchie opportunità che i lavoratori in questo caso non conoscono? Allora, gli infortuni sul lavoro è vero che l'Inei ti paga l'invalidità, ma è vero che c'è anche una quota che non viene pagata dall'Inei e che viene pagata dall'assicurazione del datore di lavoro, quindi non abbiamo paura a chiedere anche negli infortuni sul lavoro, perché se il danno è 100 ti viene pagato un 70, un 65% e un differenziale ti viene pagata dall'assicurazione e anche negli infortuni sul lavoro in itinere il datore di lavoro deve sapere che può chiedere la rivalsa all'assicurazione, cioè c'è una quota di costo che noi abbiamo nella busta paga, noi datori di lavoro, che possiamo andare a chiedere all'Inei e che tantissimi datori di lavoro non sanno che possono chiedere perché pensano che gli venga restituita tutta la quota di danno dall'Inei, invece non è vero, c'è una quota che il datore di lavoro deve chiedere all'assicurazione. E quindi sostanzialmente è sempre per mancanza magari anche di tempo e di conoscenze, si rischia di perdere dei soldi. Assolutamente, ma allora intanto non ti viene detto, non c'è informazione da parte dell'Inei che ti manda a casa la letterina e il questionario, ti viene mandato a casa un questionario e non ti viene detto guarda che tu puoi chiedere una quota del tuo costo all'assicurazione, per gli infortuni in itinere, non ti viene data comunicazione dalle compagnie di assicurazione, certo io non faccio pubblicità se io sono l'assicurazione contro di me, quindi stare zitto in ignoranza è la cosa migliore per tutti, invece è importante che la gente sappia che quando c'è un incendente in itinere, quando c'è un infortunio sul lavoro ci sono i casi, quindi venire a chiedere, si fa presto due minuti, si beve un caffè, casomai e al fine si chiede se dà la consulenza. Anche perché i casi di incidenti, infortuni sul lavoro, morti bianche, è uno dei temi delle pagine più scure del nostro paese, stando alle tabelle e alle percentuali. Sì, andare a lavorare e dover morire per andare a lavorare è una cosa pazzesca, poi bisogna pensare anche a chi resta, la possibilità di chi resta, c'è di avere un maltolto che potrebbe essere che è la rivalsa dei datori di lavoro per la ditta, ma soprattutto per i familiari, la reversibilità della busta paga del defunto che viene data alla famiglia, ma anche c'è una parte importante di danno che si può chiedere all'assicurazione dell'azienda dove è successo il fatto se c'è una negligenza da parte del lavoratore. Anche in questo caso servirebbero però delle norme, ma forse no delle norme perché ne abbiamo già tante, del buon senso, non dico dalle assicurazioni perché farsi contro pubblicità non l'ha mai fatto nessuno, però un'imposizione dal punto di vista di una comunicazione corretta da questi enti che sono statali, in cui, insomma, penso all'Ina Ilma non solo, in cui ti viene detto guarda che puoi fare questo e quest'altro ancora, non viene fatto e quindi per forza di cose devono venire da voi, ma ricordiamolo che è gratuito almeno il consiglio. Assolutamente sì, guardare le carte, parlarsi non c'è nessun costo assolutamente, dopo il problema di costi c'è sempre perché nessuno lo fa niente per niente, io sono qua per lavorare per guadagnare, certo, ma io guardo e vedo e poi do il consiglio corretto al cliente se è il caso di fare o se non è il caso di fare. Io dico sempre, io sono obbligato ad assicurarmi, io ho l'obbligo perché devo assicurarmi, giusto? Perché è una legge che è nata nel 69-69, bene, però come cittadino non ho nessun obbligo poi, ho solo quello di assicurarmi, diritto ad avere risalcimento se sono capace, se mi rivolgo a qualcuno, sia che sia un incidente stradale, che sia infortunio, che sia male a sanità, cioè io questo a me non piace, no? Perché io ho cominciato a fare questo lavoro perché anch'io ho subito un danno, vent'anni fa non ne venivo fuori, ho dovuto rivolgermi e poi da lì mi sono appassionato, ho cominciato a fare questo lavoro e ti dico che noi abbiamo fatto un'associazione, la NEIS, una categoria a Padova molto forte con il nostro presidente Polato, molto bravi e cerchiamo di fare formazione perché bisogna essere sempre attivi, fare corsi, quindi facciamo corsi, cerchiamo di capire, dopo anche noi sbaglieremo perché se uno fa… È un consiglio per quanto riguarda, siccome ce ne sono tante di agenzie nate anche sotto dal punto di vista del recupero dei crediti della sanità, dei danni in sanità, mi vengono in mente dei casi eclatanti dove sono assolutamente fuori dall'ospedale, quando una persona si rivolge a voi, quali sono i campanelli d'allarme nel dire… Allora, io ti dico che l'associazione, la NEIS, la nostra fa corsi… Allora, è uno che ti chiede soldi subito… No, soldi subito no, no, no… Faccio l'esempio più… Di fidare… L'esempio classico ma in qualsiasi campo… Di fidare, guardare, capire, chiedere, informarsi va sempre bene, poi tutti lavorano per prendere la pagnotta, come si può dire, però di solito il nostro lavoro viene pagato a buon fine, gli incidenti stradali viene pagato anche nella malestità a buon fine della pratica, è logico che nel percorso uno ha dei costi da sostenere che sono professionisti, medici, quelli lì sai più o meno cerchi di quantificarli, sbagli di poco, ma chi ti chiede soldi prima, quelli prestati così no, bisogna assolutamente star lontani, www.aneis.it viene fuori una serie di persone che sono monitorate perché anche noi poi rispondiamo a qualcuno se facciamo delle sciocchezze, la mia categoria, poi sicuramente ce ne sono anche tanti di bravi, io dico che la nostra categoria è monitorata, seguita e istruita. Stiamo quasi in chiusura perché il tempo a nostra disposizione è quasi finito, però se dovesse dare dei consigli, abbiamo parlato prima di scatola nera che si è, è una proposta infilata all'ultimo secondo e che non trova la ragione di esistere a queste condizioni, un consiglio alla politica, quale consiglio darebbe dal punto di vista? Tecnico, mi va bene la scatola nera, mi va bene tutto, però sediamoci su un tavolo e facciamolo con persone competenti, analizziamo bene, questa scatola nera può servire perché domani mattina mi dà una chiarezza su come è o su come è stato, come potrebbe essere l'incidente stradale, va bene, ma non può essere una legge quello che dice una scatola nera, perché poi i dati non si sa se possono essere manipolati, di chi sono questi dati? Le ultime aziende, non faccio i nomi per non fare pubblicità, che producevano queste scatole magiche sono state acquistate dalle compagnie di assicurazione, se io compagnie di assicurazione compro queste aziende che producono queste scatole nere, già là non mi va bene, ci deve essere un terzo, un controllore, l'Ivas che è l'istituto di vigilanza delle compagnie è contrario alla scatola nera, solo che poi le lobby al Parlamento sono forti e quindi non so come andrà a finire, io personalmente che mi obblighi a mettere una scatola nera, che poi questa scatola nera, tutti i miei dati, cioè che vado al supermercato o che vado venduti, perché poi ormai è tutto un discorso di dati, quindi le aziende… C'è un discorso commerciale… Le grosse aziende sanno cosa fai, i tuoi stili di vita, a me non va bene, cioè io la scatola nera la tolgo, la rompo, non mi va bene, se la voglio mi devi dire perché devo essere io che firmo e che l'accetto, ma non che me l'ho imponito. Allora ringraziamo Filippo Gastaldi di Euro Veneta in Fortunistica Stradale, vi diciamo anche che gli uffici sono a… Beh, noi abbiamo gli uffici a Piazzola, sul Brenta, la sede e a Cittadella, io sono di Padova, però insomma… Se avete dei dubbi, rivolgetevi a Gastaldi, non vi chiede sodo il primo appuntamento, però insomma ci sono tanti casi e tanti dubbi che possono essere chiariti con una semplice chiacchierata, allora ringraziamo ancora Gastaldi per la sua gentilezza, la sua partecipazione, naturalmente ringrazio voi da casa che ci avete seguito e ci ritroviamo con un prossimo Linea Diretta, grazie. Grazie a te. Grazie a tutti